Il Pugliese Ciacco di Catanzaro, l'Annunziata di Cosenza e il grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria sono i tre ospedali calabresi coinvolti in un doppio trapianto di reni nel mese di agosto. Il dottore Pellegrino Mancini, direttore del centro regionale Trapianti del GOM di Reggio Calabria ha coordinato tutte le fasi necessarie a garantire sicurezza e trasparenza dell'intero processo. Come viene riportato in una nota, il quale ha espresso il suo ringraziamento alle famiglie dei donatori e a tutti i professionisti coinvolti che hanno reso possibile la perfetta riuscita delle operazioni di trapianto. Tutto prosegue la nota e partito dalla rianimazione del Pugliese Ciacco di Catanzaro. Domenica 18 e lunedì agosto sono stati segnalati dal coordinamento ospedaliero due donatori multiorgano. Infatti, grazie all'altruismo e alla solidarietà di le famiglie generose che in un momento di grandissimo dolore hanno manifestato il consenso alla donazione degli organi dei loro cari ormai deceduti, è stato possibile attivare le procedure che hanno portato al prelievo per il quale è stato necessario il trasferimento dell'equipe medica regina a Catanzaro e dal trapianto degli organi donati. Un'attività che ha messo a dura prova soprattutto nel mese d'agosto gli operatori dei tre hub coinvolti nell'intero processo donazione per il prelievo trapianto. Infatti, grazie al grande spirito di abbenegazione di decine di medici, biologi, tecnici, dei tre ospedali è stato possibile portare a termine con successo tutto quanto necessario per soddisfare le richieste di donazioni dei familiari garantendo così il trapianto degli organi donati che ha avuto luogo sia in Calabria che in altre regioni. Nello specifico, la maratona ha permesso a quattro pazienti idealizzati calabresi di ricevere in dono un rene che permetterà loro di ricominciare una nuova vita.